Riparte la piscina comunale con un nuovo corso, la produzione sport ha vinto il bando, ci saranno anche nuovi investimenti relativamente a questa piscina comunale? Beh sì, nel progetto nel bando era presente anche un progetto di interventi da svolgere sulla struttura, quindi il nostro compito sarà anche quello di apportare alcune migliorie, di fare alcuni interventi funzionali soprattutto all'uso della struttura, al ripristino anche un po' del decoro e di ridare una struttura confacente alla città. Nel bando si fa riferimento anche alle cosiddette tariffe che non sono bloccate perché voi dal comune in realtà non prenderete il cosiddetto contributo di 50.000 euro, e quindi qualcuno magari si sta anche preoccupando che queste tariffe potrebbero alzarsi rispetto al solito prezzo congruo? No, assolutamente, la liberalizzazione delle tariffe è stata fatta dal commissario, per noi rimarremo sicuramente sugli stessi prezzi con cui stiamo lavorando noi come termonuoto del Fino Club nella struttura attualmente del Michelangelo, quindi non ci sarà nessun aumento. Possiamo dunque rassicurare magari anche gli utenti? Ma assolutamente, sì, lì semplicemente nei bandi precedenti c'erano alcune categorie che avevano l'accesso gratuito, agevolato, ma adesso verificheremo caso per caso, non credo che ci saranno problemi su questo. Che tipo di investimenti dovrete fare comunque per riaprire la piscina comunale che ricordiamo attualmente è chiusa e potrebbe riaprire, forse, si spera, per aprile? Sì, adesso dobbiamo ancora fare alcuni passaggi burocratici per avere l'affidamento definitivo, a quel punto poi avremo l'accesso alla struttura, lì verificheremo bene tutti gli interventi. Di certo la struttura non gode di ottima salute, quindi alcuni interventi prioritari andranno fatti subito, e poi nel tempo consideriamo che abbiamo un bando chiaramente uno più uno, quindi noi cercheremo di breve durata, quindi cercheremo di ripristinare il decoro, di ridare alla struttura, insomma una dignità per questa città, penso sia importante, e poi abbiamo alcuni pacchetti di interventi, ci sarà un parco giochi per bambini, interverremo su alcune questioni riguardanti il risparmio energetico, quindi che rendano la struttura più agibile, e poi insomma anche sulla percina scoperta dovremo intervenire, veramente saranno plurimi gli interventi, certamente non saranno interventi strutturali che possano cambiare radicalmente la piscina, perché in due anni non si rientrerebbe l'investimento, ma insomma faremo di tutto per dare un segno di un cambio di passo rispetto al passato.